Spettatrice e spettatori ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione Burocrazia Lumaca, pratica sismica dimenticata. Il condominio ricorre al TAR. Andrea D'Aurelio Avevano presentato l'istanza di riparazione dello stabile per i lavori di miglioramento sismico dieci anni fa, prima delle successive integrazioni, ma quella pratica non è stata evasa dagli uffici competenti, cadendo di fatto nel dimenticatoio. La burocrazia lumaca colpisce ancora, non che sia una novità per una zona che risente da anni di ritardire post-sisma, ma questa volta il condominio di Via D'Eramo, per il tramite del suo rappresentante MDC, ha deciso di presentare ricorso al TAR Abruzzo contro i comuni di Sulmona per sbloccare l'annosa questione del contributo richiesto. Con il ricorso il portavoce dei condomini chiede l'accertamento del silenzio rifiuto serbato alla comune di Sulmona sulla domanda di concessione del contributo per la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione delle parti comuni dell'immobile presentata in data 31-12-2010. La parte ricorrente ha fatto pure notare che la mancata definizione dell'istruttoria della pratica sismica a fronte delle tempestive integrazioni documentali prodotte non sarebbe mai stata trasmessa dal comune all'UTR-7 Rigoriano Sicoli, con conseguente omessa conclusione del procedimento. Il contributo richiesto serve a ristrutturare la scalinata, le mura perimetrali e altre parti comuni dell'edificio. Il comune di Sulmona, con delibera di giunta comunale numero 78 del 15 maggio, autorizza la responsabile dell'ufficio legale Marina Fracassi a costituirsi davanti al Tarabruzzo per la resistenza in giudizio. Secondo il comune il ricorso sarebbe tardivo e il percorso da seguire per le seconde case, come nel caso del condomino in questione, è diverso da quello previsto per le prime case e i giudici amministrativi il compito di sciogliere la matassa. Acceleratore premuto per agevolare baristi, ristoratori ed esercenti della città. All'esito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rilancio del Governo, la Giunta nel recepire l'esonero e pubblici esercizi del pagamento della TOSAP per l'uso del suolo pubblico, approvato ieri la delibera che individua criteri e procedure snelle per approvare le istanze di concessione e di ampliamento del suolo pubblico, dando precisi indirizzi alla struttura per rivedere la viabilità e di improntare un progetto di pedonalizzazione coerente con le richieste pervenute ed in linea con una nuova visione di città più attrattiva e vivibile. Abbiamo dovuto attendere la pubblicazione del decreto del Governo, modificando il percorso precedente che individuava una manifestazione di interesse, potendo ora invece agire con molta più celerità e consentire la piena fruizione delle agevolazioni ivi contenute, comprese la sospensione del pagamento TOSAP dal 1 maggio al 31 ottobre 2020. Queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici che devono veder consentito compatibilmente con le caratteristiche dell'area e del decoro urbano la concessione o l'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di distanziamento da Covid-19, ma minimizzando negli effetti sulla capacità produttiva che le nuove regole hanno imposto. Lo afferma il Sindaco di Summona, Maria Casini. Alla luce delle richieste che perverranno e alle altre valutazioni tecniche di ascolto, si procederà alla rivisitazione degli spazi urbani del centro storico. è stato dato indirizzo agli uffici di definire un progetto di pedonalizzazione per recuperare la città alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini in una logica di valorizzazione turistica e commerciale su cui la Giunta si esprimerà nelle prossime settimane e comunque prima del periodo estivo. Le istanze già ricevute, continua il Sindaco, saranno autorizzate un brevissimo tempo secondo questo nuovo regime di esenzione, mentre le nuove domande o le richieste di ampliamento potranno essere prodotte senza bolli utilizzando il modulo approvato e pubblicato entro la giornata di oggi sul sito del Comune. L'istanza potrà essere inoltrata senza bollo alla seguente e-mail. Protocollo chiocciolapec.comune.sulmona.acu.it L'ufficio competente produrrà l'atto autorizzatorio con una procedura semplificata in tempi brevissimi, al massimo entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Questi pochi giorni di ritardo rispetto a quanto annunciato, conclude il Sindaco, sono stati necessari per attendere la pubblicazione del decreto rilancio che ha reso possibile una modifica in corsa della procedura che era stata individuata con manifestazione di interesse, cui avrebbe dovuto seguire un atto di Consiglio Comunale per derogare i regolamenti per pubblica utilità, sostituita ora con una procedura direttamente autorizzatoria che con poche formalità ridurrà notevolmente il tempo di concessione, massimizzando i benefici per gli esercenti nell'esclusivo intento di sostenere il tessuto socio-economico cittadino. Ed il mercato senza spaccature finalmente c'è la fumata bianca. Vediamo. Pochi banchi per giustificare la chiusura di tutta l'aria. L'immagine che salta subito all'occhio nella centralissima piazza Garibaldi dopo due settimane di sperimentazione del mercato al tempo del Covid è destinata a sparire nel nulla, almeno si spera, perché così non si può certo andare avanti. Con le transenne che delimitano il plateatico e dentro, nei giorni di martedì e venerdì, un paio di posteggi. Ma ricominciare a rimettere in moto un movimento nella centrale piazza non era affatto facile. Proprio in queste ore è arrivata la fumata bianca per il ritorno alla tradizione. Due giorni storici di mercato in piazza Garibaldi tenendo conto delle nuove normative anti-coronavirus. In un summit che si è svolto ieri a Palazzo San Francesco tra un gruppo di esercendi ambulanti e l'assessore comunale a commercio Marina Bianco sarebbe stata trovata alla quadra per divertire già la sabbara prossima, evitando la spaccatura in due zone dello storico mercato, che già aveva sollevato proteste e polveroni con gli ambulanti che erano pronti allo sciopero. La collocazione dei posteggi dovrà tener conto dell'intera area di piazza Garibaldi, plateatico, anello o probabilmente parte di via Federico II intersezione con piazza del Carmine. L'ordinanza per la rimodulazione del traffico e per la nuova sistemazione del mercato è attesa per la giornata di domani. È l'unico modo per evitare di dividerci tenendo conto delle nuove disposizioni. Apprezziamo lo sforzo degli assessori Bianco e Zavarella e speriamo che si arrivi presto a mettere tutto nero su Bianco, affermano alcuni ambulanti. Va bene se allungano a via Federico II e a piazza del Ca' pur di rimanere in piazza? Che dici tu? Perché si vende qualcosa che ci sta andando tutto male, la roba, la forza, cerchiamo di fare qualcosa. Come sono andate queste due settimane? In insomma la gente circolava, mi aveva ancora paura. Cerchiamo di, che devo dire, lo rimettiamo al signor Finca che fa qualcosa di buono. Bisognerebbe vedere la disposizione, io vorrei vedere la mappa di come ci sistemano perché altrimenti l'importante è ricominciare, questo è vero, tutti insieme siamo più forti, si crea più movimento. Ma scusa, a due guardi. Attenzione, stiamo facendo un attimo. Ed è più importante stare tutti insieme e chiaramente ci piacerebbe sapere come ci dispongono che io a tutt'ora non l'ho ancora capito. La differenza di spezzare il mercato fra qua e Papa Giovanni Vinteressi non era realizzata. Federico II potrebbe essere interessante. Però... Potrebbe andare. Però anche se c'è problema, ma che poi in via Federico II si rieguono i parcheggi, però non ci sono alternative. Beh, per restare nel terribolo della pianta. È l'unica soluzione, sì, sì. Mi sono a cautelare per un 49enne di origini campane allontanato dalla cassa familiare per maltrattamenti alla compagna. Nella giornata di ieri il personale del commissariato di Avezzano ha dato esecuzione ad una misura cautelare dell'allontanamento dalla cassa familiare nei confronti di un 49enne di origini campane e domiciliato ad Avezzano. La misura è scaturita da un'informativa del commissariato di polizia a carico dell'uomo che aveva aggredito e causato lesioni alla propria convivente. L'attività investigativa ha preso avvio allorché la vittima, dopo essersi presentata negli uffici della polizia fortemente turbata, aveva raccontato agli investigatori di subire maltrattamenti e di essere stata picchiata con un bastone di legno, mostrando nell'occasione gli evidenti segni delle lesioni. La donna, tuttavia, per timore di ripercussioni, non aveva voluto formalizzare una denuncia limitandosi al mero racconto delle ultime violenze subite. I poliziotti del commissariato hanno proceduto d'ufficio per lesioni gravi applicando l'aggravante del mezzo usato dall'aggressore. La donna, spaventata, è stata affidata al centro antiviolenza di Avezzano poiché nell'immediatezza dei fatti, non era voluta tornare a casa per paura che il convivente la picchiasse nuovamente. L'aggressore, in precedenza, aveva più volte ingiuriato, minacciato e percorso la compagna, sempre per futili motivi legati a sentimenti di gelosia e per tali motivi era stato denunciato con il provvedimento emesso. L'uomo non potrà recarsi nell'abitazione della donna senza specifica autorizzazione del giudice o avvicinarsi a lei a meno di 500 metri. E dopo la critica del Presidente della Regione Marsilio, il Ministero dell'Ambiente blocca la gara di appalto per la bonifica della discarica di bussi. Gaetano Trigilio. Sono ormai anni che si parla di veleni della discarica di bussi, ma pastoi e burocrati che non hanno consentito a tutt'oggi di realizzare una corretta bonifica del territorio. Giorni fa il Sindaco di bussi, Salvatore Lagatta, ha minacciato di querelare il Ministero dell'Ambiente per mancata bonifica. Oggi è la volta del Presidente della Regione, Marco Marsilio, che dice «Non possiamo accettare la decisione del Ministero dell'Ambiente che ha deciso di annullare la gara per la bonifica delle discariche di bussi. Dopo anni gli abruzzesi hanno atteso che 50 milioni di euro fossero utilizzati per bonificare quei siti inquinati e provvedere alla reindustrializzazione del territorio». Così il Presidente della Regione, Marco Marsilio. Questa notizia farà perdere altro tempo e rischia di sottrarre fondi importanti per l'Abruzzo che sono stati restituiti al Ministero dell'Economia nella presunzione che adesso Edison, siccome ha perso la causa, farà la bonifica dei siti. Edison presenterà progetti minimali, è sempre Marsilio che parla, non bonifica integrale e ripristino di sicurezza del sito. La Regione non accetterà una proposta come avvenuto in passato che prevede una copertura o semplice tombamento dell'aria, per sempre preclusa alla reindustrializzazione e dal suo riutilizzo. La sicurezza del territorio vuole dire togliere quei veleni. Questo passo indietro è molto grave e la Regione Abruzzo sarà al fianco del Comune di Bussi. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Augusto De Santis, portavoce del Forum H2O, la lettera del dirigente del Ministero è una toppa peggiore del buco e peraltro smentisce addirittura il Ministro che aveva assicurato l'avvio dei lavori sulle discariche 2A e 2B, precisa De Santis, a parte che le motivazioni adotte sono fragilissime o addirittura per nulla fondate, visto che lì ci sono soprattutto rifiuti. L'analisi del rischio si fa sui terreni. Per questi ultimi la legge consente di andare direttamente alla bonifica con rimozione, con le procedure semplificate. Lo spiega Augusto De Santis, portavoce, come dicevamo, del Forum H2O. Fa bene quindi la Regione, prosegue ancora De Santis, a promettere battaglia, anche legale, contro le giravolte ministeriali che rischiano di rimandare di anni gli interventi di bonifica esponendo pure lo Stato alla beffa di cause milionarie, visto che si passa e si pensa di annullare una gara indetta 5 anni fa, aggiudicata 2 anni fa. Conclude così De Santis. Il direttore generale dell'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila annuncia l'avvenuto trasferimento nella giornata di oggi dell'ultimo paziente ricoverato nella terapia intensiva dell'edificio G8 dell'ospedale San Salvatore. La terapia intensiva, afferma Roberto Testa, ha svolto a pieno la sua missione di garanzia rispetto alla pandemia Covid, ma l'edificio ora non può e non deve essere chiuso. La direzione aziendale infatti sta valutando con forza di utilizzare le 15 delle stanze della struttura per la cosiddetta area grigia, cioè per quei pazienti che giunti in pronto soccorso devono restare in attesa del tampone prima di poter entrare nei reparti. In tal senso il G8 rappresenta sicuramente la massima espressione tecnologica di sicurezza che si possa avere, continua il direttore, che sottolinea come la missione del personale di unità di terapia intensiva diretta dal professor Marinangeli non è terminata poiché l'ASL è da una parte chiamata a monitorare attentamente la situazione, mentre dall'altra garantire un'immediata risposta ad un'eventuale ripresa dei contagi che non è improbabile. La direzione generale ha già provveduto ad inviare all'assessorato alla sanità la richiesta di autorizzazione e di incremento del numero di posti letto della terapia intensiva generale all'interno del San Salvatore, il cui progetto prevede di dedicare quattro posti letto a malati infettivi. La guerra Covid-19, conclude il dottor Testa, non è affatto finita e ci vede impegnati tutti a costruire percorsi di garanzia per il futuro, per cui nel ringraziare tutti i sanitari dell'ottimo lavoro svolto fino ad oggi invita tutti i cittadini a seguire le regole dettate dal buon senso per evitare di rientrare nel tunnel. E a intro d'acqua torna l'ordinanza antidegrado. Multe a chi non taglia l'erba. Multe fino a 500 euro per i proprietari delle aree private che non provvedono al taglio dell'erba o alla rimozione dei rifiuti. Lo ha deciso il sindaco d'intro d'acqua Cristian Colasante con apposita ordinanza numero 6 del 12 maggio pubblicata sull'albo pretorio del silo istituzionale dell'ente. Con il provvedimento il primo cittadino ordina che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte o i proprietari di case, gli amministratori di stabili con annesse aria verde, dovranno provvedere e effettuare relativi interventi di pulizia mantenendo per tutto il periodo estivo a partire dal 15 maggio al 30 settembre 2019 condizioni tali da non accrescere pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di ingenti. Procedendo al taglio dell'erba e la rimozione di rifiuti e le aree private poste all'interno dei centri abitati, capoluogo e frazioni e in prossimità di civili abitazioni. Gli eventuali trasgressori sono avvertiti. Per chi non rispetta l'ordinanza previste multe da 25 a 500 euro, ma il sindaco avverte che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio con addebito delle spese a carico dell'inadempienti qualora gli obbliganti non provvedano entro il termine indicato e che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti sarà direttamente risarcito dall'inadempienti. unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall'amministrazione. L'ordinanza antidegrado arriva in anticipo sulla tabella di marcia in vista delle stelle del covid che vedrà protagonista il turismo lento e naturale proprio nei piccoli borghi. Il paese quindi dovrà farsi trovare pronto soprattutto sul fronte del decoro urbano. Sul Monad Delivery come inventarsi un lavoro in tempo di emergenza? Per inventarsi il lavoro in un momento difficile del post emergenza covid puntando su sicurezza ma anche su comodità. Questo è un po' il filo conduttore di Sulmona Delivery che nasce dalle ceneri, chiamiamo così, di Sulmona Sicurezza che resta ovviamente attiva sul territorio che però si è convertita, ha convertito le sue forze proprio in un momento nella fase 1 e nella fase 2 dell'emergenza. Nasce proprio da reinventarsi un pochettino in questo periodo che è stato di chiusura per i locali. Come dicevi, Sulmona Sicurezza c'è però con i locali chiusi ovviamente siamo in attesa di ripartire con quel discorso e quindi abbiamo iniziato questa nuova attività praticamente di consegna a domicilio. Siamo partiti da un grande supermercato locale praticamente e mano a mano ho detto perché non proporsi anche agli altri tipi di attività che vanno dall'alimentari, dal food, ma a qualsiasi tipo di bene che si voglia affiliare e diventare partner ci siamo proposti e ci stiamo proponendo. Quindi come funziona? L'utente vi può contattare? Immagino ci sono dei riferimenti e anche uno spazio dove voi andate a gestire di volta in volta le richieste. Noi ovviamente ci rivolgiamo all'attività, direttamente all'attività. Abbiamo creato una pagina Facebook dove si possono vedere anche i nostri partner, la pagina è sul Mona Delivery e sostanzialmente ci rivolgiamo appunto alle attività che prendendo contatto con noi poi propongono il servizio. Una volta arrivate le richieste di consegna ci contattano direttamente e noi andiamo sul territorio cercando di essere il più rapidi e veloci possibili per portare a casa delle persone. Quanta richiesta c'è stata in questo periodo di emergenza, Daniele? Diciamo che è stata molta, soprattutto il periodo iniziale, siamo stati nel periodo pasquale dove c'è stato un incremento soprattutto di spese portate nelle abitazioni e mano a mano adesso si stanno abituando. Quello che noi vorremmo far capire è che questa attività può andare avanti anche a fine emergenza. E si avvia la produzione di mascherine e il carcere di Sulmona, tornando così alla ribalta per note di merito tra le strutture da prendere ad esempio. Grazie al percorso contributo, prezioso contributo offerto in tandem dalla direzione, dal comandante del reparto e dalla preziosa opera di addetti penitenziari e detenuti, non ultimo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre che il medico competente, spiega il sindacalista Mauro Nardella, sarà quindi garantita una migliore gestione dell'emergenza Covid. Le mascherine saranno prodotte all'interno di un laboratorio avveniristico dotato di tutti i confort in materia di sicurezza e salubrità e rispondente ai criteri imposti dal protocollo anticovide. Un'attenzione particolare in questo periodo che rende il carcere di Sulmona un vero e proprio fiore all'occhiello. Era questa l'ultima notizia, a tutti voi auguro un buon pomeriggio, l'informazione va avanti tutta la giornata, noi ci vediamo domani e arrivederci. Grazie 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 Grazie